Aspetta aspetta il servizio Bella vecchi travoni siamo i granas e siamo tornati con una nuova challenge Oggi che non è questa Non è questa qua di mangiarsi la panna Ma è la challenge delle torte in faccia E' schifo Delle torte in faccia praticamente ragazzi Questa qua non ha fatto presente nessuno qua su Youtube Italia A parte Joker Vi dico subito che noi avevamo ordinato il pacco Io ce l'ho ordinato la domenica Da prima che uscisse il video Joker Mi ricordo il video Joker è uscito lunedì Potete crederci come non crederci ma vabbè Comunque questa challenge la vogliamo fa pure noi E Shalla pure se l'ha fatta a Joker non c'è un problema Perciò passate anche a vedere magari il suo video che è stato carino Che è molto figo infatti mi sono togliato Ci mettiamo così dobbiamo Che culo che ciao Dobbiamo girare questa rotellina qua Che vedete E a seconda Bravo sei il coglione Non finirà mai Ah Qualcuno ha preso il naso Vabbè fai parlà De che numero esce dobbiamo fare il numero delle volte che giriamo Perché noi magari giriamo un po' in questa manovella E random poi esce la mano tipo una non ha girato Due non va Tre abbiamo fatto quattro Cinque Alla quinta è uscita Alla quinta pizza in faccia Quindi adesso andiamo a cominciare Andiamo a forgire la panna sopra Maio Basta oh Che da dei capelli eh Troppa né pizza Tranquillo Vai iniziente No bimbombare giù per chi comincia Dispari Pari Buttiamole giù Buttiamole giù Che cazzo è i sorti Muoviamo tipo così Muove la colitta Tre Aia 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 Medaglio sia il primo Bam Vai Uno Vai vai No no questo va questo va Questo va Non va E poi se va è meglio Uno Due Due Vai Dai mandiamo una buona Seeeeee Sì 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 Che falle Un bagliato Quattro Tanto si commette che apri la bocca Ma tanto becchi sicuro carcola Uno Due Due Guarda il quarto eh La becco io è finita, vai Fermatevi Vai vai Stacca 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 Vai Uno non c'è sta Cioè non c'è l'uno E no no 2 2 2 no no era 2 era 2 era 2 allora rifaccio era 5 lo rifaccio no romper era 5 no 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 stai vedendo il video dai dai per favore era 5 me lo fai rifà briga te no lo rifaccio no non si muove ma d'accordo fanno 3 dai 4 3 4 e mezzo che cazzo facciamo insieme no 4 dai dai fai 4 non per cazzo era 5 fai 4 1 2 1 2 a Mac minorities not Simple non c'è vedo aspetta vedo fansurfy fermate dai coglione mom NO fermate sono aspetta mamma fa fa' il c**o devo farlo c'ho d te dentro l' occhi tranquillo tranquillo ci vuole poco aspetta Coglione Passate sui nostri Instagram per vedere i selfie Dai Non ce vedo più No raga Che schifo Si sbocca in faccia Buona la panna vero? Ma vedo tutto bianco Vedo bianco? Latte macchiato No grazie bianco Ancora 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 Intanto ho qua ricarico Di morire Si si bello Ma baffanculo La cosa bella No no E che se io ti dicevo vabbè due Te non lo beccavi Mo per karma Per karma cazzo Te deve toccà Ma mo comincio io Vai cominciano te No a me frega cazzo Comincio io No che cazzo vuoi? Vai Quattro All'uno eh Scommenti guarda Aspetta aspetta il selfie Il selfie Vabbè far selfie vai Eeeh Non si è passato Lo scott Oddio Non respiro carcola Ma passi lo scott E' stai a bruciare l'occhio Ma che schifo E' cascata per terra Ma smoccio la Panna Ma poi ti cominciate Te vaffanculo Oddio Oddio Ma poi ti messo Se cominciavo Mamma mia Cioè se cominciavo Mi ammazzavo A chi tocca A me no Vai Quattro No raga Non ci vedo Vai Arrima Arrima Uno Ma quanta ce n'hai messa? No poca Tranquillo Ma per fare Questa pechina Ti giuro Due Due Cazzo Merda Da Cazzo Sta a sparare Waka Waka Sì Porca puttana No Sì Fammi solo due Ti prego Fammi solo due Dai a schiccare Non ci vedo di te Due Buono Bucio di culo Guarda Il primo Guarda Banzai C'ho paura Sì Non ci ha passato Non ci ha passato Almeno non mi è andata Dentro gli occhi Occhio Tiè Posa qua Posa Aspetta Che cazzo Stai a fare Fermo Tana Emano Ce l'avevo messa Una cifra Allora ragazzi La challenge di oggi È finita Speriamo vi sia piaciuta Noi questo qui L'abbiamo comprato Quindi possiamo riprigarla Quando volete Se questo video arriva a 10.000 like Cercheremo di portare Frax of Dread A fare questa sfida Sul Instagram Potete trovare le foto Che abbiamo scattato Tra il video Qua in descrizione Di primi due link Sono i nostri di Instagram Poi c'è Facebook La pagina E niente Continuate a seguirci Se vi è piaciuto anche questo video Condividete E ci becchiamo al prossimo video Bella Ciao